Con questo tutorial vediamo come effettuare il massimo comun divisore tra numeri utilizzando la scomposizione in fattori primi. Partiamo da questo esempio. Devo fare il massimo comun divisore tra 86 e 82. Devo scomporre allora 86 e 82 in fattori primi. 86, essendo un numero pari, lo posso dividere per 2 ed 86 diviso 2 ottengo 43. 43 è un numero primo, quindi è divisibile solo per 43 e poi 43 diviso 43 è 1. Una volta che abbiamo ottenuto 1 in questa colonna ci fermiamo. Allora vuol dire che 86, scomposto in fattori primi, è uguale a 2 per 43. Faccio la stessa cosa adesso per 82. 82 è un numero pari, allora lo posso dividere per 2. Ricordo che 2 è l'unico numero primo pari. 82 diviso 2 ed ottengo 41. 41 lo posso dividere soltanto per 41 perché è un numero primo e poi 41 diviso 41 ottengo 1. Allora significa che 82, scomposto in fattori primi, lo posso scrivere come 2 per 41. Ora posso andare a determinare il massimo comun divisore. Devo andare a individuare in questa fattorizzazione e in questa fattorizzazione i fattori che sono in comune con il grado più basso. L'unico fattore in comune che vedo è il 2. Allora significa che il massimo comun divisore tra 86 e 82 è 2. Vediamo quest'altro esempio. Allora devo scomporre 99 in fattori primi. 99 lo posso dividere per 3 perché la somma delle cifre è un numero divisibile per 3. E allora 99 diviso 3 è 33. 33 è di nuovo divisibile per 3. 33 diviso 3 fa 11 e poi 11 è un numero primo e lo posso dividere soltanto per 11. 11 diviso 11 fa 1. Avendo ottenuto 1 mi fermo così. Allora significa che 99 lo posso scrivere come scomposizione in fattori primi come 3 alla seconda perché ho 2 e 3 e quindi scrivo 3 alla seconda per 11. Adesso vado a scomporre in fattori primi 51. Siccome che la somma delle cifre di 51, cioè 5 più 1 che è 6, è divisibile per 3, allora significa che 51 lo posso dividere per 3. 51 diviso 3 ottengo 17. 17 è un numero primo e lo posso dividere solo per 17 ed ottengo 1 e quindi mi fermo. Allora 51 lo posso scrivere come 3 per 17. Ora posso andare a determinare il massimo comune divisore tra 99 e 51. Devo andare a trovare il fattore comune con il grado più basso. Qui ho 3 alla seconda, qui ho 3, quindi il fattore comune sarà sicuramente 3. Devo prendere il grado più basso tra 3 alla seconda e 3 e il grado più basso è proprio 3. Questo significa che il massimo comune divisore tra 99 e 51 è 3. Vediamo questi altri esempi. Parto da questo massimo comune divisore. Allora devo scomporre 52 in fattori primi. Siccome che 52 è un numero pari lo posso dividere per 2. 52 diviso 2 ottengo 26. 26 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 13. 13 lo posso dividere solo per 13 perché è un numero primo ed ottengo 1 e allora mi fermo. Questo significa che 52 lo posso scrivere come 2 alla seconda perché ho 2 volte 2 per 13. Adesso vado a scomporre 36. 36 è un numero pari quindi lo posso dividere per 2 e 36 diviso 2 ottengo 18. 18 lo posso sempre dividere per 2 ed ottengo 9. 9 lo divido per 3 ed ottengo 3. 3 lo divido per 3 ed ottengo 1 e mi fermo qui. Allora vuol dire che 36 lo posso scrivere come 2 alla seconda perché ho 2, 2 per 3 alla seconda. E allora vado a scrivere 2 alla seconda per 3 alla seconda. Adesso posso andare a determinare il massimo comune divisore cioè i fattori comuni sono questi qui 2 alla seconda, 2 alla seconda. Siccome che sono proprio i fattori comuni sia di 52 che di 36 allora il massimo comune divisore è pari a 2 alla seconda ossia 4. Vediamo quest'altro esempio. Devo andare a determinare il massimo comune divisore tra 54. Allora scompongo in fattori primi 50. 50 è un numero pari lo posso dividere per 2 ed ottengo 25. 25 lo posso dividere per 5 ed ottengo 5. 5 diviso 5 ottengo 1 e mi fermo qui. Allora 50 lo posso scrivere come 2 per, avendo qui 2 e 5, vado a scrivere per 5 alla seconda. Vediamo 4. 4 lo posso dividere per 2 ed ottengo 2. 2 diviso 2 fa 1 e mi fermo così. Allora 4 lo posso scrivere come 2 alla seconda. Vediamo ora quali sono i fattori in comune. L'unico fattore in comune che hanno è il 2. Qui ho 2, qui ho 2 alla seconda, devo andare a prendere il 2 con l'esponente più basso e quindi vado a prendere questo 2. E allora significa che il massimo comune divisore tra 54 è 2. Vediamo ora come effettuare il massimo comune divisore tra tre numeri. Devo effettuare la scomposizione in fattori primi di 62, 192 e 173. Inizio con 62. 62 è un numero pari e lo posso dividere per 2. 62 diviso 2 ottengo 31. 31 è un numero primo e lo posso dividere solo per 31 ed ottengo 1. Allora significa che 62 è uguale a 2 per 31. Vediamo ora 192. 192 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 96. 96 è un numero pari e lo posso dividere per 2 e quindi 96 diviso 2 fa 48. 48 è sempre un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 24. 24 diviso 2 è 12. 12 diviso 2 è 6. 6 diviso 2 è 3 ed infine vado a dividere per 3. 3 diviso 3 fa 1. Allora significa che 192 lo posso scrivere come 2 elevato alla sesta perché ho 6 volte 2 e quindi scrivo 2 alla sesta per 3. Ora devo scomporre 173. 173 mi rendo conto dopo qualche tentativo che è un numero primo. Allora significa che 173 lo posso dividere soltanto per 173 e quindi qui ottengo 1. Allora 173 è proprio uguale a 173. Adesso vado a determinare il massimo comune divisore tra questi numeri. Devo andare a determinare tra queste scomposizioni quali sono i fattori comuni a tutte e tre le fattorizzazioni. Qui vedo un 2, qui vedo un 2 alla sesta, qui non c'è, quindi non posso prendere 2 come fattore comune. Non posso prendere nemmeno 31 perché è presente soltanto in 62, non posso prendere nemmeno 3 perché è presente soltanto in 192 e infine non posso prendere 173 perché in 62 e 192 e 173 non è un fattore. Questo significa che questi numeri sono coprimi tra di loro, ossia il massimo comune divisore varrà 1 visto che non ci sono fattori in comune. Vediamo quest'altro esempio. Devo determinare il massimo comune divisore tra 130, 158 e 9. Inizio a scomporre 130 in fattori primi. 130 è un numero pari e quindi lo posso dividere per 2. 130 diviso 2 ottengo 65. 65 lo posso dividere per 5 ed ottengo 13. 13 è un numero primo e lo divido solo per 13 ed ottengo 1. Allora significa che 130 lo posso scrivere come 2 per 5 per 5 per 13. Scompongo ora 158. 158 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 79. 79 è un numero primo e quindi lo vado a dividere soltanto per 79 e poi ottengo 1. Allora la scomposizione di 158 sarà uguale a 2 per 79. Vediamo ora la scomposizione di 9. 9 lo posso dividere per 3. 9 diviso 3 ottengo 3. 3 è un numero primo e lo divido per 3 ed ottengo 1. Quindi 9 lo vado a scrivere come 3 alla seconda. Vediamo ora quali sono i fattori comuni a tutti e tre i numeri. Osservo che in queste tre fattorizzazioni non c'è un fattore che è presente nella prima, nella seconda e nella terza. Allora significa che il massimo comune divisore vale 1. Vediamo questi altri esempi. Devo andare a determinare il massimo comune divisore tra 14, 174 e 90. Allora inizio con 14. 14 è un numero pari e lo posso dividere per 2. 14 diviso 2 ottengo 7. 7 è un numero primo e lo divido per 7 ed infine ottengo 1. Allora vuol dire che 14 lo vado a scrivere come 2 per 7. Scomponiamo adesso in fattori primi 174. 174 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 87. Se sommo le cifre di 87, 8 più 7, ottengo 15 che è un numero divisibile per 3. Allora vuol dire che 87 lo posso dividere per 3. 87 diviso 3 ottengo 29. 29 è un numero primo e allora vado a scrivere qui direttamente 29 e poi 29 diviso 29 fa 1. Allora vuol dire che la scomposizione in fattori primi di 174 è uguale a 2 per 3 per 29. Vediamo ora la scomposizione di 90. Allora 90 è un numero pari e posso dividerlo per 2. 90 diviso 2 ottengo 45. 45 lo posso dividere per 5 ed ottengo 9. 9 lo divido per 3 e ottengo 3. 3 diviso 3 fa 1. Allora 90 lo posso scrivere come 2 per 5 per 3 alla seconda perché qui ho 2 volte 3. Adesso vediamo quali sono i fattori comuni in tutte e tre queste scomposizioni. Osservo che qui ho 2, qui ho 2 e qui ho 2. Allora significa che il massimo comun divisore tra 14, 174 e 90 è 2. Vediamo quest'altro esempio. Scompongo in fattori primi 120. 120 diviso 2 ottengo 60. 60 diviso 2 ottengo 30. 30 diviso 2 ottengo 15. 15 lo posso dividere per 3 ed ottengo 5. 5 lo divido per 5 ed ottengo 1. Allora 120 lo posso scrivere come 2 alla terza perché ho 3 volte 2 poi per 3 per 5. Scompongo ora 166. 166 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 83. 83 è un numero primo e allora vado a scrivere diviso 83. 83 diviso 83 fa 1 e termino così. Allora la scomposizione di 166 è uguale a 2 per 83. Vediamo ora come scomporre 38. 38 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 19. 19 è un numero primo e allora lo posso dividere per 19. 19 diviso 19 fa 1. Avendo ottenuto 1 mi fermo così. Allora 38 scritto come scomposizione in fattori primi è pari a 2 per 19. Vediamo ora quali sono i fattori comuni in queste tre scomposizioni. Allora qui ho 2 alla terza, qui ho 2 e qui ho 2 quindi l'elemento comune è sicuramente 2. Devo prendere l'elemento con il grado più basso. Siccome che qui ho 2 alla terza, qui 2 e qui 2 devo prendere il grado più basso ossia 2. Questo significa che il massimo comun divisore sarà pari a 2. Vediamo questi ultimi esempi. Vado a determinare il massimo comun divisore tra 176, 88 e 12. Vado a scomporre 176 in fattori primi. 176 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 88. 88 diviso 2 ottengo 44, diviso 2 fa 22, diviso 2 ottengo 11, 11 lo divido per 11 ed ottengo 1. Allora 176 lo vado a scrivere come 2 alla quarta perché ho 4 volte 2 per 11. Adesso vado a scomporre 88. 88 lo posso dividere per 2 perché è un numero pari ed ottengo 44. 44 lo divido per 2 ed ottengo 22. 22 diviso 2 ottengo 11 ed infine 11 lo divido per 11 ed ottengo 1. Allora 88, scritto come scomposizione in fattori primi, è pari a 2 alla terza per 11. Scomponiamo ora il terzo numero, 12. 12 lo divido per 2 ed ottengo 6. 6 diviso 2 ottengo 3. 3 diviso 3 ottengo 1. Allora significa che 12 è uguale a 2 alla seconda per 3. Adesso devo andare a determinare quali sono i fattori comuni con il grado più basso. I fattori comuni sono questi con il 2. Devo prendere il grado più basso. Qui ho 2 alla quarta, qui 2 alla terza, qui 2 alla seconda. Il grado più basso è questo qui e quindi è 2 alla seconda. Allora significa che il massimo comun divisore è 2 alla seconda, ossia 4. Vediamo questo ultimo esempio. Devo andare a determinare il massimo comun divisore tra questi numeri. Scompongo allora 20 in fattori primi. 20 diviso 2 ottengo 10, 10 diviso 2 ottengo 5, 5 è numero primo e lo divido per 5 ed ottengo 1 e mi fermo. Allora 20 lo posso scrivere come 2 alla seconda per 5. Scrivo qui 2 alla seconda perché ho 2 volte 2. Scomponiamo ora 160. 160 è un numero pari e lo posso dividere per 2. Quindi 160 diviso 2 ottengo 80, 80 diviso 2 ottengo 40, diviso 2 ottengo 20, diviso 2 ho 10, diviso 2 ho 5 e poi 5 diviso 5 ottengo 1. Allora 160 lo posso scrivere come 2 alla quinta perché ho 5 volte 2 per 5. Scomponiamo infine 130. Allora 130 è un numero pari e lo posso dividere per 2 ed ottengo 65. 65 lo posso dividere per 5 ed ottengo 13. 13 è un numero primo e allora lo divido per 13 e 13 diviso 13 fa 1. Allora significa che 130 è uguale a 2 per 5 per 13. Andiamo adesso a determinare il massimo comundivisore. Ho come fattore in comune il 2 e anche il 5. Allora devo andare a prendere il grado più basso tra 2, 2 alla quinta e 2 alla seconda. Il grado più basso è questo qui, è 2. Faccio la stessa cosa con l'altro fattore 5. Siccome che ho sempre 5 allora il grado più basso è proprio 5. Il massimo comundivisore sarà allora dato da 2 per 5, ossia 10. E scrivo che il massimo comundivisore è 10. E con questo termino il tutorial su come determinare il massimo comundivisore tra numeri utilizzando la scomposizione in fattori primi.